Ho una grande notizia Si torna in televisione Bisogna festeggiare Così Non perdere tre nipoti e un maggiordomo Da lunedì a venerdì alle 13.45 su Boeing Da lunedì a venerdì a venerdì a venerdì a venerdì a venerdì We'll be back next Break free weekends Starting April 4th Wednesday to Friday 9pm to midnight Weod time All shows No interruption On America Plus Non so di sorprendere Lanciati in un divertimento Travolgente Boeing Ti accompagna nel No 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 They play the media Guilt or Innocence is determined by a 60 second video bite on CNN They work the jury People think that jurors can be manipulated by the lawyers They live for it, a moment, right before the verdict They ban the rules If you got the right lawyer with you, you've got the greatest legal system in the world Justice, Saturdays at 9pm, we have time, on America Plus The oldest trick in the book, that they're trying to throw the foxes on the scent Jose Mendez A milkman He's gonna fight the great Jose Mendez Calcium C, calcium K, C, K He's flummoxed C'è un mondo in continua trasformazione Cambiare forma è l'unico modo per sopravvivere Qui il bene e il male si scontrano E i nuovi eroi combattono per il loro futuro e quello del genere umano La nuovissima serie Transformers Energon Da lunedì al venerdì alle 17 in Toonami Su Cartoon Network Uppermissima serie BOOM, YA STUPID RABBIT, LIKE THIS! FIRE UP, FIRE UP! FIRE UP, FIRE UP!